Cambiamo decisamente argomento, ci occupiamo di Dolomiti perché le Dolomiti un anno fa sono state nominate e riconosciute dall'UNESCO Patrimonio Naturale. Il primo anniversario, tutti i dettagli nel servizio del direttore Davide Bucci. 26 giugno 2009, una data entrata nella storia. Sì, perché la dichiarazione ufficiale delle Dolomiti Patrimonio Naturale Mondiale UNESCO, avvenuta a Siviglia alla presenza di oltre 800 rappresentanti delle nazioni di tutta la terra, porta la data appunto del 26 giugno 2009. Insomma, è trascorso un anno. E in occasione di questa importante ricorrenza, l'assessore provinciale all'ambiente Michi Leimer, nell'ambito di una conferenza stampa a Bolzano, ha voluto ripercorrere l'iter che ha portato al prestigioso riconoscimento e di illustrare soprattutto le responsabilità che ne conseguono. Sì, innanzitutto una grande soddisfazione e gioia. Siamo orgogliosi di poter gestire un patrimonio mondiale. È una sfida culturale. Per noi non è un dovere, non è un obbligo, anzi proprio espressione di gioia e di responsabilità. E adesso è passato un anno, abbiamo la fondazione che è attiva. Adesso questa fondazione può portare avanti le richieste dell'UNESCO, il che vuol dire il piano strategico del tutto settore che fa parte delle province e poi il piano turistico che dobbiamo sviluppare. E noi vorremmo proprio creare un'area sostenibile, un marchio, un territorio dove questo patrimonio, questo messaggio viene sentito nel cuore, viene visto, vissuto, viene proprio visto come un gioiello che vorremmo proprio far vedere anche agli altri. All'incontro per il primo anniversario della dichiarazione delle Dolomiti patrimonio dell'UNESCO erano presenti anche il direttore di Dipartimento Fulvio Ruffini e Renato Sascor dell'Ufficio Parchi Naturali. Le Dolomiti fanno parte da un anno dei 176 beni naturali riconosciuti dall'UNESCO a livello mondiale. In Italia ve n'è solo un altro oltre alle Dolomiti e sono le isole eolie. Grazie.